Se ti piace questo video ti invito a farlo sapere lasciando un commento e mettendo un like. Inoltre se vuoi puoi anche iscriverti al canale. Salve amici nerazzurri, oggi vi voglio parlare di un possibile colpo di mercato per l'Inter. Si tratta di Rafinha, il talento brasiliano del Barcellona. Voi cosa ne pensate? Sarebbe un'ottima aggiunta per la nostra squadra? Io credo di sì, ma a quanto pare il Barca non la pensa allo stesso modo. Infatti, secondo il giornale catalano Sport, il club blaugrana sarebbe pronto a cedere Rafinha nella prossima sessione di mercato, visto che non ha convinto nel suo secondo anno in Spagna. Rafinha era arrivato al Barcellona con grandi aspettative, dopo aver fatto faville con il Leeds United in Inghilterra. Il club spagnolo aveva sborsato ben 58 milioni di euro, 316 milioni di reais, per strapparlo al Chelsea, che aveva offerto una cifra inferiore. Il brasiliano, originario del Rio Grande do Sul, aveva contribuito alla vittoria della Liga e della Supercoppa spagnola, ma non era riuscito a imporsi come titolare fisso nella squadra allenata da Xavi. Con la partenza di Ousmane Dembélé al PSG, Rafinha aveva avuto più spazio, ma non era riuscito a sfruttarlo al meglio. Nell'ultima finestra di mercato, aveva ricevuto alcune offerte, tra cui una molto interessante dal Newcastle. Tuttavia, l'ex calciatore Deco, ora direttore sportivo del Barcellona e mentore di Rafinha, aveva bloccato la sua cessione, confidando in un suo miglioramento. Ma ora, sembra che la pazienza sia finita, e che Rafinha possa essere messo sul mercato a fine stagione, per recuperare parte dell'investimento e liberare spazio in rosa per nuovi innesti. Questo potrebbe essere un'occasione d'oro per l'Inter, che potrebbe approfittare della situazione e portarsi a casa un giocatore di grande qualità, capace di fare la differenza in attacco. Rafinha ha solo 27 anni, e ha ancora tanto da dimostrare. Forse, in Italia, potrebbe ritrovare la sua migliore forma e diventare un idolo dei tifosi interisti. Che ne dite? Vi piacerebbe vederlo con la maglia nerazzurra? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube per non perdervi le ultime novità sul mondo dell'Inter. Ciao e alla prossima!